Ben tornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. Il vortice depressionario va spostandosi verso la Grecia e allo stesso tempo da ovest un campo di alta pressione tenta di farsi strada sull'Italia. In questa fase settori adiatrici e centro-sud saranno interessati da correnti più fresche e balcaniche che apporteranno ancora precipitazioni sparse, specie durante le ore pomeridiane, temperature invece che rimarranno stazionarie. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 5 aprile. Al mattino nuvolosità irregolare su quasi tutti i settori. Aumento della nuvolosità durante le ore pomeridiane con rischio di rovesci sparsi o temporali sulla Puglia centro-meridionale e su Potentino e sulle zone interne del Materano. Possibilità di nubi basse lungo le coste adriatiche pugliesi. In serata c'è stazione dei fenomeni quasi ovunque, ultimi fenomeni solo sul Potentino. Temperature che risulteranno stazionarie o in leggero aumento solo nei valori massimi. Venti per lo più variabili con deboli rinforzi da nord-est lungo le coste adriatiche. Mari da calmi a poco mossi. Ma eccoci nuovamente con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Paolo Simone che è immortale al tramonto le rilassanti spiagge di Torre Lapillo, Lecce. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.